Grazie eccellenza, sarò davvero molto breve, andiamo a discutere e votare un provvedimento di certo non controverso, ma anzi il cui valore e importanza sono stati riconosciuti da tutta l'Aula. E' una legge quadro che fa sue le linee guida europee con lo scopo di valorizzare i nostri titoli e i nostri percorsi di studio superiori e se vogliamo è un provvedimento che gioca d'anticipo anche rispetto alla possibilità dell'accordo UE sotto l'aspetto culturale dell'istruzione universitaria saremo già pronti e aprendoci agli standard internazionali sicuramente saranno più incentivati a scegliere la nostra università sia gli studenti ma anche gli stessi docenti proprio perché andremo a valorizzarla e ad accrescere anche il riconoscimento dei titoli stessi a livello internazionale. In quest'Aula siamo abituati a parlare sempre di investimenti economici, questa volta invece con soddisfazione andiamo ad investire sullo studio e la cultura dei nostri ragazzi ma anche di tutti quelli che sceglieranno il nostro sistema formativo universitario a più livelli. Quindi sono davvero molto felice di poter aprire questo dibattito e di poter andare all'approvazione di un provvedimento che andrà ad aumentare il livello culturale dei servizi che diamo ma anche del...